Brick, secondo me ti vuoi montare, hanno un infinevento ebraico, fanno il profumo dell'odore di Brick. Brick, secondo me ti vuoi montare, non mi vuoi montare, non mi vuoi montare. Brick, secondo me ti vuoi montare, non mi vuoi montare. Brick, secondo me ti vuoi montare, non mi vuoi montare, non mi vuoi montare, non mi vuoi montare. Brick, secondo me ti vuoi montare, non mi vuoi montare, non mi vuoi montare. Brick, secondo me ti vuoi montare, non mi vuoi montare. Buon appetito! 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 il servizio è normale non ci arrivo a fare il giro, magari infatti va il mio red, pedale comunque fuori però riesco a farlo il giro, però è veramente bella, cioè nel momento sei una cosa che prenderà un po' di vuoto e però, ancora pedale l'ho detto c'è un po' di meno ritmo qua dopo una bella mangiata si va in giù? eh ma che super c'è neve poi c'è neve su guarda qui non ci sa mai davano neve oggi allora non c'è un po' di scatola con questa neve neve un po' di rosso neve in pianura infatti da giocchiò così ah ma si pecca a rieggiare, se no faremmo si si boh se no saremmo di tanto bene si ma no e anche tutta la pasta anche il letto intero vi siete fatti ma no e anche io avrei gradito diciamo che era per quattro secondo me quello no quando l'ho vista portare l'operazione è corso lì lì sembrava per quattro poi siamo impegnati non sono 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 ah è il ma è è è è è ma quale è il mandorale? sono lì? qui è il mandorale questo qua? vedeteci no, no, non è bene io da scuole no, no, non è bene viene qua viene qua viene qua viene qua non è bene Vieni, si. Vieni qua. Vieni qua. Ma non puoi scatturare. Vieni qua. Sedi. Sedi. Ma ci pini. Sai quanto è qui? Sedi. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Poi c'è solo qua il telefono. Vieni qua. Non puoi. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non puoi. i break ad aggola frusta messi cazzo è un panato ma è duro così? non si tocca via che puoi fare? apri allora buon rientro grazie non fai un po' grosso vedi che cazzo fai? non ho avuto 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 però le parole è più pare proprio è l'alte La fioca si, la fioca! Nelica, nelica! Nelica! No, non è mai nata! Che impressione. Ora, guardiamo il che lo fare la giudicazione Grazie a tutti! Ma si sta bene? No ma se faceva freddo un po' Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Vieni qua! Vieni qua! Grazie! Aspetta, vieni qua, ho trovato via via! Mamma, giusto? La reggia? Le cose che sicuramente non associo bene io! C'è senza più che giù c'è la... ...c'è la... ...c'è la reggia... Ma è che... Sole e neviche? Sole e neviche è una cosa... ...veramente sempre... ...incredibile! Vabbè, Giulio, per coppia... ...me ne emozionate! Quando si va in centri commerciali... ...me ne emozionate! Buon proseguo, grazie, ciao! Ciao! In centri commerciali è un'altra cosa! Ah, è un'altra cosa, certo! ...la fiocca... ...media penerita... ...faccia... ...tormenta... ...sì, attormenta questa... ...sì, attormenta questa... ... 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 ma dammi l'altro Brik? dove sei? basti con la mia una certezza ho paura Brik? 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 B cultures Brik? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti